Nicola Mennuni, ciao, buona, prima! Un ciclista preferito? Peter Sagan Piatto preferito? Pizza Preferisce allenarti con le cuffiette o guardandoti intorno? Natura Stati sulle strade forestali, allora va tutto bene Andate in bosco dentro, è un po'... Non lo sai mai dove dorme e dove sei, l'osso I cani, per favore mettete sulla cinghia, perché no, quando scappa il cane E trova l'osso, il cane arriva indietro dalla persona e l'osso arriva anche sicuro E dopo è un problema Barretto Panini Barretto Ruota alto o basso profilo? Medio Armstrong o Pantani? Pantani Serata a ballare con gli amici o pub tranquillo? Casa con le ragazze Dietro macchina o dietro moto? Macchina Ci dovremmo essere Ciao 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 Ciao